La visita del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, per conoscere da vicino la situazione per incontrare il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo, dopo la positività al coronavirus del paziente Brianzolo, arrivato a Roseto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Da questo incontro è emerso che Roseto non costituisce al momento focolaio di infezione perché non ci sono situazioni autoctone, come confermato dalla dottoressa Mattucci. Abbiamo questo caso sicuramente positivo ma la situazione è molto sotto controllo quindi io azzarderei nel dire che siamo abbastanza tranquilli. Il paziente è in condizioni stabili e quindi la febbre non ce l'ha, è arrivato con piretico ma immediatamente dopo, il giorno dopo, già la febbre era scomparsa. E permane questa tosse ma naturalmente ce l'aspettavamo. Quindi il paziente è sotto controllo, l'altro, il secondo che è arrivato in un risultato negativo, il bambino quindi questa cosa ci tranquillizza molto. E quello che posso dire è che siamo in contatto con il laboratorio di Pescara 24 ore al giorno perché io le notizie le ho in diretta nottetempo. Questo ci mette in condizioni di poter intervenire subito da un punto di vista sanitario, medico cioè medico, clinico nel senso stretto della parola. Quindi in terapia la situazione è sotto controllo. Aspettiamo naturalmente gli eventi che significano altri casi in osservazione. Noi non abbiamo situazioni autoctone che significa Focolai a Roseto. In Abruzzo non ce ne sono al momento. Sono persone che sono venute dal nord e ci hanno portato. Ovviamente persone che avevano avuto contatti al nord hanno poi manifestato la sintomatologia in loco e noi qui la stiamo affrontando. Il paziente di Lodi attendiamo notizia. Nel senso che è ricoverato e lui ha presentato una sintomatologia quando era già qui purtroppo e al momento è ricoverato, è arrivato in pronto soccorso. Vorrei dire una cosa che deve tranquillizzare la popolazione. i pazienti non arrivano spontaneamente in pronto soccorso perché noi abbiamo fatto sì con il nostro protocollo aziendale che non arrivassero in pronto soccorso in maniera spontanea. Loro sanno di dover contattare o il numero verde o il medico di medicina generale. Successivamente viene contattato il 118, c'è un triage telefonico epidemiologico e clinico. A quel punto il paziente viene condotto direttamente a malattie infettive con un percorso secondario. Quindi non va in pronto soccorso, non va a malattie infettive per l'ingresso principale. Arriva per un percorso secondario direttamente nella stanza triage di malattie infettive.